allora chiede emozionata quando pietro vede l'appartamento bello risponde pietro comincia così per pietro e silvia una nuova epoca non devono più fare la fatica di inventarsi ogni volta il dove il come e il quando dei loro appuntamenti anche quando pietro non c'è a silvia piace restare il più possibile nell'appartamento se il figlio passa il fine settimana con il suo ex lei si ritira lì per due giorni e le sembra un po più facile pensare che dal venerdì sera a lunedì mattina pietro si è impegnato a fare il padre e il marito e lei non possa mandargli nemmeno un messaggio sul telefonino per dirgli mi manchi passa così inavvertitamente un altro anno e un giorno silvia la trova una sigaretta sporca di rossetto spenta in una tazzina da caffè dimenticata vicino al letto lei non fuma e non fuma nemmeno pietro che comunque non usa il rossetto le gira la testa ricorda quello che le ha detto pietro tempo fa non esiste un dove senza la possibilità di andarsene altrove respira forte sa che quello è il momento che se non abbandonerà pietro oggi ogni giorno penserà tanto prima o poi lo faccio ma non lo farà mai più la chiave gira nella toppa silvia butta nella spazzatura tazzina e mozzicone di sigarette tutti insieme poi va incontro a pietro e gli dice bentornato a casa amore perché il mondo è pieno di donne tradite di uomini abbandonati e di persone come silvia che pensano tanto prima o poi lo faccio proprio a tutti loro a tutti voi che prima o poi pensate di farlo è dedicata questa nuova puntata di sentimentalisti anonimi e il pezzo di mine alberto lupo che stiamo per ascoltare chiamate come al solito al numero verde 800 77 71 77 e vediamo di rendere questo venerdì sera un po più sopportabile per silvia per voi e anche per me grazie lettra grazie anticipatamente chiara per aiutarci anche a capire la scelta che tu hai fatto di questi tre saggi dovete sapere che chiara è stata un po l'ispiratrice anche del nome di questo ciclo di conferenze zone cieche punti di luce io come creatività come tu sai diciamo non brillo proprio però lei mi ha assicurato tu dammi una bossa di titolo poi io ci metto la mia polverina magica non è esattamente così tu mi dissi oramai molti mesi fa e hai scelto anche di accorpare questi tre romanzi ecco partiamo dalla zona cieca nella quale tu ci racconti di Lidia e Lorenzo conduttrice radiofonica di sentimentalisti anonimi lei scrittore narcisista e inafferrabile lui il loro bisogno di essere amati sembra permettere all'altro di entrare in contatto con la loro zona cieca quella parte di noi dove tu scrivi ciascuno è sconosciuto persino a se stesso ma dove c'è anche una sorta di appiglio di gancio di amo attraverso cui l'altro può contattarci ecco la creatività lo abbiamo visto nel nostro primo appuntamento risiede si potrebbe dire in un luogo di confine dove si incontrano fragilità e desiderio debolezza e autenticità al tempo stesso non sempre però riusciamo a venire a capo da noi rispetto a queste ferite a questa zona d'ombra quindi talvolta la scrittura l'arte altre forme creative è come se non fossero sufficienti quindi i tuoi personaggi come appunto in sentimentalisti anonimi cercano a un certo momento l'aiuto di qualcun altro si aprono all'aiuto alla possibilità dell'aiuto dell'altro ecco è scorretto dire che i tuoi personaggi e questo penso che sia anche il loro grande fascino vivano sempre su questa soglia un mondo di confine tra capacità di trovare da sé delle soluzioni creative per convivere con le proprie ferite e il desiderio di affidarle all'altro queste stesse ferite sì posso rispondere grazie sono sempre felice quando quando sono qui a torino questi incontri sono per me molto preziosi perché di solito noi scrittori incontriamo no i lettori quando esce un romanzo invece questi incontri creati da da riccardo danno la possibilità proprio a noi scrittori per primi di di uscire proprio da delle logiche che incastrano la nostra passione in una professione per esempio mentre lettra leggeva sono passati talmente tanti anni da quando ho scritto la zona cieca che vi assicuro ci ho messo quei due o tre secondi a dire ma che è no ma 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 di che sa perché non stava parlando perché pietro poi fatalità diventa il nome del protagonista di adesso mentre in questa lettura di elettra non so chi di voi abbia letto ha letto la zona cieca è un libro che è uscito nel 2008 e lydia fa la conduttrice radiofonica e questa è una storia di quelle che lei intercetta di questa donna silvia abituata a essere la seconda e convinta a un certo punto di essere la possibilità di amore vivo laddove l'uomo invece ha un matrimonio strutturato una famiglia lei dice ok va bene non la lascerà mai ma io sono la verità e poi scopre che invece nel momento in cui anche la loro relazione in qualche modo diventa stabile arriva la sigaretta con rossetto quindi lui aveva bisogno di un altro altrove ancora ed è una storia con cui comincia la zona cieca e risponde subito alla tua alla tua domanda sì i miei personaggi sono sempre sono a me piace raccontare un mondo di persone ma mi piace anche farlo nel lavoro che ho fatto in radio e che oggi faccio con il podcast di slegati mi piace raccontare persone che fanno fatica a vivere e dunque ad amare e ad essere amati e sono come condannati dal poter sentire solo con il loro cuore e pensare solo con la loro testa cioè proprio non è come se fossero analfabeti rispetto al libretto per le istruzioni che si dà sulle relazioni no che uno dice adesso a un certo punto di fidanzo a un certo punto di sposo cioè è come se lo rifiutassero così a prescindere che anche se tocca a loro in effetti se naturalmente potessero seguire quel processo lo rifiutano perché perché ne hanno troppa voglia perché ne hanno paura boh e gli altri che ci stanno a fare e gli altri per persone fatte così sono la più grande condanna perché sono una fonte inesauribile di guai di provocazioni di incertezze perché dici ma l'altro dice ma non è che questa paura è un desiderio non è che questo desiderio è una paura e nello stesso tempo sono l'unica possibilità di di crescita di capire magari un po meglio se quello è un desiderio una paura e quindi ecco a me piace raccontare queste persone qui che non si abbattono né alla possibilità di legame né all'impossibilità di un legame è una terra di mezzo dove tanti di noi finiscono in alcuni periodi della nostra vita e dove alcune persone proprio abitano e e poi la lingua scrivere naturalmente trovando delle parole per loro tanto più in un romanzo come la zona cieca dove gioco molto con il linguaggio non a caso a un certo punto arriva un personaggio che parla il linguaggio dei bambini e degli stranieri e e aiuta i due personaggi proprio uno che di fatto non sa parlare poi magari ci arriviamo quindi ecco diciamo che i i miei personaggi tendono a fidarsi del consigliere sbagliato però è quello che gli dà la sicurezza cioè nelle mie storie arriva è come se il gatto fosse il vero il gatto e la volpe fossero il vero grillo parlante è un po così nei miei romanzi succede questo poi riprenderemo questo discorso perché sarà la domanda più difficile che voglio porti questa sera ragazzi sono un po provata dalla giornata però hai ragione hai ragione ti dico molto sollecitata oggi specifico che chiara gamberale che si impone ogni volta di non voler conoscere le domande che le farò quindi accetta la sfida un po mi sono pentita però è troppo divertente perché appunto poi dici a quest'ora ti concentri perché uno di solito dice è autobiografico il tuo riccio queste sono le domande invece con Riccardo no no ecco no non sono preparata vai la serbia tiriamo in serio per dopo però questa qui per il gran finale perfetto certo ricorda della assolutamente certo è sabato e oggi il mio programma non va in onda lorenzo torna a casa sera inoltrata e mi trova sotto la doccia entra in bagno e mi dice di sbrigarmi perché deve raccontarmi una cosa lo fa con il distacco di sempre senza quello che propriamente si definisce entusiasmo ma è comunque strano da parte sua un comportamento del genere di solito sono io a chiedergli se gli è capitato qualcosa di bello durante la giornata e lui a rispondermi con monosillabi vaghi e piuttosto infastiditi lo raggiungo in cucina dove lo trovo con lo sguardo perso sullo schermo del suo computer portatile siediti e mettiti comoda mi dice leggi questa mail che mi è arrivata oggi e gira verso di me il computer caro lorenzo è tempo che desidero contattare te mi chiamo brian sono di dublino potremmo esserti padre sulla copertina dell'ultimo libro tuo ho trovato la data della tua nascita e per ringraziare te del dono che ogni libro tuo è stato per me ho fatto una mappa astrale che se darai a me un indirizzo manderò a te ma inoltre alla mappa concentrato sulla tua persona ho fatto anche un viaggio nel passato tuo nel presente e soprattutto nel futuro sai lorenzo delle volte siamo tanti stanchi e se qualcuno magari guarda noi afferrà possibilità che a noi fuggono le cose che gli altri osservano di noi e che noi nemmeno immaginiamo quella che insomma nella pratica sciamana si dice zona cieca a volte vede in maniera migliore degli occhi nostri un abbraccio forte e grazie per tutto tuo caro brian lorenzo mi guarda con l'ansia di un bambino in attesa di risposte non l'ho mai visto così sinceramente emozionato prima d'ora anzi non l'ho mai visto sinceramente emozionato prima d'ora allora mi chiede straordinario gli dico ti rendi conto l'ilo davvero non ho parole la composizione della tua famiglia il livido le donne del tuo passato me hai indovinato tutto pazzesco ma non è mica quello l'importante e torna immediatamente alla stizza di sempre non credo che le sue parole vadano prese alla lettera come no ma no è chiaro secondo me sbagli lui parla di visioni precise più chiaro di così anzi ti prego gli scrivi la mia data di nascita così fa la mappa pure a me ma lo vedi che non capisci proprio niente il mistero di questa lingua il suo potere taumaturgico non meriti più che ti legga mezza riga di quello che mi scriverà brian è uno che sicuramente ha studiato sul libro tibetano dei morti lui è uno che ha letto gurjev mica è l'astrologo di vanity fair che piace a te mi sta succedendo qualcosa di inspiegabile quando scrivo per mano di brian e parlo con la sua voce entro in una specie di trance e sento franare tutte le certezze che fino a questo momento ho eretto in risposta alle resistenze di lorenzo comincio a formi domande che non mi sono mai posta prima mi chiedo se non mi sia innamorata di un uomo del genere anche perché dichiara esattamente le mie stesse paure e perché cercando di asciugare le sue io posso asciugare le mie forse sono le fragilità che mette in gioco brian e non il suo coraggio a fare tanta presa su lorenzo e su di me essendo a Torino non potevamo metterci un po' di esoterismo di mistici, di gurjev quindi ogni volta c'è un qualcosa che va a pescare suggestivamente anche in quel mondo ecco sempre in febbraio se ti ricordi mi ero permesso di condividere una cosa che mi disse una persona su di te ovvero che ci sono scrittori e poi c'è chiara nell'idea che diciamo di enfatizzare la tua capacità di inserire nella narrazione un elemento a volte completamente imprevisto dissonante comunque concreto tangibile che sembra quasi scombussolare la linearità della storia è stato come se qualcuno mi bussasse al sangue nel grembo paterno o in questo caso nella zona cieca l'irruzione l'invenzione irruzione di uno sciamano artista Brian ecco perché questo uomo venuto dal nulla riesce secondo te a toccare corde così profonde in Lorenzo Brian autore di improbabili quanto splendide artisticamente parlando carte astrali perché il suo linguaggio volutamente incespicante imperfetto, impreciso viene invece accolto come misterioso visionario, profetico addirittura in psicologia come sai abbiamo degli escamotage cioè dei costrutti che usiamo per cercare di comprendere quello che accade internamente tra le persone in questo caso diremmo che è un fattore di transfert cioè il ricevente trasferisce su questa figura misteriosa dei contenuti che neanche lui sa bene quali siano però li sente sovraordinati li sente sapienziali ecco tu da letterata da scrittrice senza fare appello a queste scorciatoie analitiche come spieghi invece questa legge dell'attrazione dell'influenza che sembra passare ancora più rapidamente attraverso la distanza l'oscuro l'ignoto l'incomprensibile mascherato anche chi di voi l'ha letto questo romanzo? eh sì ma anche per chi non l'ha letto tanto non è un colpo di scena perché da questa lettura Brian è un un tentativo ma uno potrebbe dire per automatismo disperato invece poi alla fine molto divertito di questa donna che ha a che fare con quest'uomo così imprendibile a un certo punto quest'uomo che ha determinate caratteristiche non è simpaticissimo no? e però e però le parla la convince a stare proprio lì poi capirete quando leggerete il romanzo che fa un po' il lavoro sporco per lei no? è per questo che si che si che Lidia e Lorenzo si attraggono tanto perché Lidia è la buona loro sarebbe il cattivo però a me chi conosce i miei romanzi lo sa non accetto mai questo queste formule e di solito se la buona tratta dal cattivo è più cattiva di lui no? eh da qualche parte o meno meno disposta ad accettare quel ruolo ecco quindi più cattiva di lui che succede che a un certo punto lei per gioco si inventa questo sciamano che scrive queste lettere è lei no? l'avete capito dalla lettura di e mentre il suo appello d'amore non pesca dentro quest'uomo e invece questo appello di amicizia questo appello di aiuto pesca improvvisamente lui che è incapace di dire parole lui che è incapace di dire l'amore Brian ti voglio bene abbiamo usato una parola non mascherato dicevamo prima appunto ma quanto tempo io con la mia psicanalista junghiana Amatisa che è l'unica che poi che mi ha sopportato per tanti anni perché gli altri non so quanti ne ho fatti fuori proprio cioè non veramente solo lei ha resistito poi l'ho glorificata in per dieci minuti cioè peraltro adesso che stanno girando il film di per dieci minuti lei sarà Margherita Bui quindi insomma è giusto perché veramente è stata però però lei io quante volte nel corso degli anni poi le dicevo ma incontrerò mai qualcuno che mi fa Brian no mi diceva non è possibile no perché ti deve amare talmente tanto ma deve avere un'intuizione di dire ci sono certe persone a cui certe cose vanno non lo so vanno in risonanza con la ferita bambina è un'espressione questa della zona cieca no delle cose che qualcuno ha visto da piccolo che l'hanno spaventato magari hanno a che fare con il tutto insieme a tavola cioè qualcosa e rischi di fare come i figli degli imprenditori che rifiutano l'azienda e magari invece sarebbe il meglio per loro ma per un atto no di intolleranza rispetto a tutto quello che che hanno subito come figli rifiutano no si fanno lo sgambetto da sole e nelle relazioni questo è molto possibile cioè hai visto delle cose che non che t'hanno fatto male e tendi a rifiutare quel modello quindi ecco che Lidia vestita da donna desiderante a Lorenzo fa paura gli genera un rigetto arriva mascherata da uno sciamano omosessuale che è stato sull'orlo che è uscito dalla dipendenza dell'eroina però poi ce l'ha fatta però poi era famoso nel rock però poi invece se le fa dire quelle stesse cose cioè e questo è un atto che noi persone che amiamo un uomo una donna dei figli dobbiamo è molto credo che centri molto l'empatia qui io ne faccio anche un discorso di linguaggio perché pensate quanto ci emoziona il linguaggio dei bambini e degli stranieri lei non a caso istintivamente Lidia lei che è una conduttrice radiofonica quindi abituata a usare il linguaggio no con una sua precisione quanto è più emotiva a una lingua del genere cioè i bambini chi ha figli lo sa ti arrivano a dire l'errore del bambino e dello straniero arriva a un potenziale emotivo altissimo perché nel dire quella cosa sbagliata arriva proprio lì no oltre le barriere e e e quindi questo personaggio nato così che non parla l'italiano io dico te Brian questa scrittura è molto importante perché uno perché arrivi raggiunga una persona come Lorenzo che infatti avete visto la scena le dice tu sei da giornaletto no tu leggi l'astrologo di Vanity Fair mentre invece è lei che ha creato questa lingua ma anche lei qual è la cosa più importante che anche lei se lui è raggiungibile da Brian anche lei dismette i panni della femmina che corre dietro a un uomo che forse fino in fondo non è anche a lei inventare questa lingua pensiamo a noi quando parliamo con i bambini anche noi ci guadagniamo no di quelle parole nuove di quel livello in cui ci alziamo non ci abbassiamo sempre la famosa psicanalista una volta quando ero incinta ormai da amica mi disse attenzione non voler portare subito tua figlia nei territori del linguaggio da grandi stacci crescerai come persona e come artista stai lì perché è un'occasione poetica è un'occasione artistica quindi ecco ecco che Brian io credo che Lorenzo da qualche parte lo sappia che è Lidia però mascherata da Brian gli fa meno paura e forse anche a Lidia fa meno paura entrare in contatto con quello che sta provando mascherandosi da da Brian posso cogliere solamente uno spunto prima di dare la parola elettra parlavi della disperazione a un certo punto cioè come se riuscire a evocare no? questo chiamiamolo ruolo interno di Brian fosse stato possibile solo davvero arrivando al fondo del fondo del fondo è lì che si trovano questo tipo di contenuti di capacità no io di questo sono convinta Riccardo no io penso di aver risposto sì troppo tempo e se ho un rimpianto nella mia vita è di essermi fidata troppo più del dolore rispetto alla gioia penso che invece tutte e due abbiano e quando dico è disperata Lidia ma è anche divertita perché comunque a lei non potrebbe piacere un uomo che non creda a questa grande pagliacciata io di una cosa sono convinta che quando un amore quando due persone tutti noi incontriamo poi con quella ci fermiamo ci facciamo del bene ci facciamo del male è un equilibrio neurotico è una cosa io racconto questo ho raccontato tanto questo nei miei romanzi ma io sono convinta che l'incontro d'amore sia un incontro proprio me lo vedo come al parco giochi fra due bambini cioè proprio penso che abbia a che fare con la compatibilità delle nostre ferite e bambine credo che abbia a che fare che poi uno sia abituato a sentirsi a casa se in un certo tipo di disperazione riesce a trovare un suo divertimento è perverso come discorso perché allora autorizza tutto il discorso che sto facendo secondo me un limite c'è e il limite è nel nel fatto che non ci sia una vittima e non ci sia un carnefice questo questo è importante nei rapporti naturalmente la violenza mi fa schifo non la racconto nei miei romanzi racconto di misteriosi incastri fra ferite fra ferite bambine questo credo che in questo io credo proprio fortemente che le persone con cui poi andiamo d'accordo da grandi sono persone con cui saremo andate d'accordo non tanto da adolescenti che l'adolescenza oggi l'abbiamo visto nel convegno è un territorio insomma dove tutto è un po' più ambiguo però io penso che quando si incontrano due persone in un discorso amoroso si stanno incontrando due due bambini grazie credo di sì e lettra l'unica non avercela più una vita ero io al suo posto una massa informe sfilacciata ferita che come unico perno su cui girare aveva lo smarrimento passato il momento del dolore insopportabile poi non c'era più neanche quello a farmi un po' di compagnia andavo a letto e l'unico pensiero prima di addormentarmi era la speranza di non risvegliarmi tanto il grande amore che dovevo avere l'avevo avuto i romanzi migliori che dovevo scrivere li avevo scritti di certo non ne avrei scritti altri in cui mi sarei potuta così profondamente esprimere perché non avrei vissuto nient'altro che mi avrebbe potuto così profondamente toccare la casa d'infanzia era ormai alle spalle e con lei ogni promessa interessante di bene e allora se non c'è più da scrivere se non c'è più da vivere se non c'è più una famiglia che ogni settimana quantomeno mi dia l'illusione di essere la mia che ci sto a fare io al mondo ripetevo in continuazione ogni lunedì alla mia analista la dottoressa T che un giorno di dicembre ispirata da Rudolf Steiner ed esasperata da me alla fine di una seduta mi ha buttato lì intensa e un po' magica com'è le va di fare un gioco per un mese a partire da subito per dieci minuti al giorno faccia una cosa che non ha mai fatto cioè una cosa qualunque basta che non l'abbia mai fatta in 35 anni ma quasi 36 quasi 36 una cosa qualunque nuova per un mese sì per dieci minuti per dieci minuti ma è sicura che funzioni beh dipende da lei i giochi sono per persone serie se decide di cominciare il percorso non deve saltare nemmeno un giorno e poi poi che alla fine che cosa si vince riavrò indietro la mia vita ne riparliamo fra un mese Chiara intanto giochi si impegni e non bari mi raccomando arrivederci arrivederci non avevo niente da perdere era proprio quello il mio problema è diventata l'occasione per provarci cominciare il gioco dei dieci minuti invece guarda rifacciamo il gioco è subito un test quando si basa quanti di voi hanno letto per dieci minuti vedi quanti è tanto questo libro è successo qualcosa nella mia vita con questo libro ma perché secondo te l'hanno letto più degli altri parla più direttamente è un libro che è uscito a un certo punto dai confini delle librerie è entrato tipo quasi nelle farmacie è questo ogni volta che una persona mi si avvicina e mi dice c'è un tuo libro che mi ha salvato la vita con quello sguardo lì io so che sta parlando di questo perché e me lo dice perché io sono convinta che se non mi fossi salvata la vita io facendo quel gioco di conseguenza scrivendo quel romanzo questo romanzo non avrebbe quella quell'incandescenza lì perché dentro che uno dice appunto mi sono accorta che avrei dovuto scrivere questo libro che è un po' diverso da tutti gli altri perché mentre facevo questo gioco ricevevo una serie di messaggi mentre lo facevo ma domani che fai ma domani che fai il gioco di fare ogni giorno per dieci minuti una cosa nuova per un mese è un percorso è un percorso di uscita dai lutti dalle separazioni ma del tutto campato in aria dall'esasperazione di una psicanalista e dal fatto che a me piace giocare perché appunto lo dicevamo prima a me se c'è una cazzata dico sì la faccio mi piace allora uno dice non ne posso più ascoltarti prova a fare questa ci ho provato e mentre lo facevo ho detto ma qui però c'è un potenziale artistico fortissimo in questo gioco e avevo la sensazione avete presente quella scena di Forrest Gump che tutti cominciano a correre dietro di lui e capito e tutti che mi dicevano ma domani che fai ma dove fai dico questa va scritta perché ho condiviso talmente tante storie all'insegna dell'incapacità delle cose qui è una soluzione tant'è che gioco in un maniera diversa con la scrittura ho molto abbassato la complessità psicologica dei personaggi in virtù del metodo cioè questo è un romanzo in cui consapevolmente abbasso la complessità dei personaggi perché altrimenti non si finiva più cioè altrimenti ci si distraeva dal metodo invece questo è proprio un regalo che io ho proprio un regalo cioè di dire guardate che questa cosa sono sempre stata la cantrice di quello che non funziona che non può funzionare che noi comunque dei tunnel da arredare perché non possiamo uscire vi dico questa cosa funziona però non ce la racconti giusta perché no poi devo dire sentendo le lettere fra un po' non lo so cosa fa perché dico oddio ho 35 anni quasi 36 cioè la mia età oggi 10 anni di più e io penso ancora a quelle stesse cose quindi poi dico no dico oddio che non ho più scritto le cose buone che non incontrerò più il grande amore le cose dico oddio quindi è stata tutta una pagliacciata nel frattempo però insomma ci siamo divertiti abbiamo scritto abbiamo letto questo è poi ecco però c'hai ancora più incuriositi perché noi vorremmo capire vediamo come lettori ma direi anche come analisti perché tu abbia colto questa proposta così insolita quantomeno nell'ambito di una analisi al di là del riferimento a Rudolf Steiner quindi nonostante la tua allergia al misticismo tu passi con disinvoltura da Gurdjieff a Steiner quindi una cosa apprezzatissima da noi torinesi c'è un esergo di Steiner addirittura in apertura per dieci minuti quindi alla faccia del libro leggero cioè parti veramente ho detto quello scritto così però semplificando i personaggi hai detto però partendo da altezze siderali eh sì ecco però la domanda è un'altra a me interesserebbe capire penso di non essere l'unico perché in quel momento tu abbia accettato di cogliere una proposta appunto così insolita mi permetto di fare riferimento se me lo concedi anche alla nostra precedente conferenza in cui Emanuele Trevi che tra l'altro ringrazio per essere qui nel pubblico ci ha istruito sull'apprendistato di Marseille Guriol con Ogo Temmeli nell'ambito dei Dogon quello che era allora il Sudan francese e Emanuele Trevi ci ha mostrato come in un percorso di formazione di sé al di là e a fianco della formazione istituzionale più razionale ci sia anche un qualche elemento irrazionale che compone no? l'apprendistato complessivo ecco perché certi rimandi in analisi spesso i meno razionali i più intuitivi talvolta anche l'umorismo la battuta di spirito ecco toccano più profondamente di insegnamenti più istruttivi l'unica citazione che farò questa sera arriva perché mi ero sgridato la volta scorsa no? fai troppe citazioni l'unica promesso esatto Martin Buber nei racconti dei Cassidim il padre del deserto riferisce di questo dialogo tra un discepolo e il suo rabbi il discepolo gli chiede perché nella Bibbia è scritto e queste parole riposeranno sul tuo cuore anziché dentro il tuo cuore no? le parole delle scritture e Rabbi Mendel di Kosk dice le parole riposano sul tuo cuore ma in certi momenti sacri il tuo cuore si apre ed esse sprofondano nelle loro profondità ecco che cosa ha reso possibile per Chiara l'apertura del cuore in quel momento cioè perché ha accettato questa sfida e forse come allenarci noi a disallentare un po' le catene del cuore per ricevere maggiormente io penso sempre di nuovo che ci sono certe persone questa poi è una domanda appunto più biografica che rispetto nel senso che appunto io questo non l'ho mai nascosto è stato un gioco che mi è stato proposto ma non con la serietà con cui poi l'ho preso anche perché uno un po' ogni tanto poi non ne può più voi a un certo punto uno ripete sempre voi come psicanalini immaginano che uno ripeteva sempre la stessa cosa ma proprio ma non me l'ha detto fallo ma me l'ha detto come dicendo senti prova e a me però mi è suonata dentro una cosa tant'è che questo poi è successo nella vita questo poi ha ispirato il libro fra lo studio della mia psicanalista e dove era a casa mia erano vicinissime fra l'altro adesso sembra un caso ma veramente ho cominciato ad andare prima e poi mi ero spostata casualmente a vivere tipo a 300 metri sembra da un stalker però era così no era del tutto casuale fra il suo studio e casa mia c'era questo centro estetico e io mentre uscivo con questa musica dentro dico a me non piacciono molto i colori sgargianti come si vede insomma non è che sono una e dico vabbè entro e mi faccio le unghie fucsia cioè per i dieci minuti allora che succede che a me io tendo lo dicevamo all'inizio no il grillo parlante che in realtà è il gatto e la volpe cioè io non sopporto proprio per emotivamente esteticamente spiritualmente intellettualmente chissà di essere giù cioè non mi piace il maestro troppo consapevole di esserlo non mi fido non mi fido dal punto di vista non mi fido della scrittura quando un libro è troppo scritto non mi fido mi piacciono gli scrittori dove non avverto il telaio mi piacciono le persone dove non sento la messa in scena mi piacciono i bambini so dialogare so che se c'è un mondo che qua c'è casa odds cioè se c'è se c'è io i mondi verso i quali si sa cioè ho sempre dedicato le mie energie sono stati quelli dell'infanzia e quelli del disturbo psichico cioè sono due mondi le cui ferite io posso ognuno poi c'ha le sue c'è chi ha l'ambiente c'è io ho questo cioè io entro in risonanza dove c'è un abbiamo parlato di Brian stiamo parlando sempre della stessa cosa dove c'è qualcosa che non passa per una morale e ho la sensazione che passi per qualcosa di bambino di magico io tendo a fidarmi ecco e e quindi con me ad esempio non sono potute funzionare tutte quelle analisi dice quello che io mi ricordo una volta uno era un freudiano io non vorrei chiara perché si continua a comportare così dico no me lo devi di te cioè no dico come io ti perché cioè io lo faccio spiegamelo no ma non così che vuol dire ecco no io ma lontano cioè se sento che è giusto non mi fido perché penso che tu non stai in ascolto ma che hai bisogno di abitare un mondo ordinato preciso perché tu per primo hai paura di stare nelle cose quindi a me una cazzata del genere così gigantesca così luminosa così colorata vuol dire fai ogni giorno una cosa nuova io sono per esempio adesso se vogliamo poi andare al metodo il secondo esercizio steineriano è difficilissimo perché il primo per una personalità creativa e iperattiva è perfetto il gioco dei dieci minuti bisogna avere molta fantasia a me non mancano la fantasia l'energia il secondo esercizio steineriano è provare ogni giorno perché allora il terzo poi è il più difficile di tutto il secondo è per un mese non lamentarsi di niente cioè non comunicarti io sapete quante volte ci ho provato a cominciare il secondo esercizio non ci sono riuscita perché il secondo è che tu per un mese anche il giorno in cui ti sei rotto la gamba è andato tutto male devi dire è per oggi tutto sommato non faceva freddo no capito cioè è questo questo è il secondo il terzo poi è impossibile che il terzo fatti i primi due cioè ti fai un mese di dieci minuti il secondo così qua se vogliamo andare sul serio il terzo il terzo mese è che tu devi lavorare e a quel punto a me questo è sempre sembrato devi lavorare sui tuoi stati d'animo per far sì di non essere mai felice o triste ma essere sempre in equilibrio dico cioè devi diventare lo psicofarmaco di te stesso cioè devi il tu abbassarce se sei troppo felice abbassare non ridere troppo cioè fare questo esercizio qua ecco il primo a me diciamo mi somigliava è finito a lì somiglia mi è venuto incontro perché a me quando quando mi dici inventati qualcosa io sono l'altro giorno mia figlia a proposito delle cose magiche dicono le persone parlavamo di delle persone che non le piacciono se ne esce e dice dico ma perché non ti piacciono queste persone dice sono in effetti una mosceria terribile lei dice sono delle persone sono come dei cartoni animati dove non succede niente e mi dice questa frase che non è il film perché nel film tu dici chi è Slosky ci sta noi partiamo può anche non succedere niente ma invece nel cartone animato deve per forza succedere qualcosa e io sono è figlia mia infatti nel senso che quando lei mi ha detto questa cosa qui ho capito io credo moltissimo nel mito e questo poi ne parleremo magari anche dopo però intanto ne parliamo adesso il mito di Atalanta e Ippomene che è quel quadro stupendo di Guidoreni dove Atalanta che è stata allontanata in quanto femmina dal padre poi è l'unica che uccide questo cinghiale che infestava le valli dove abitava il padre il padre la riporta a corte e dice adesso ti sposi lei dice ok io sposerò solo chi corre più veloce di me nessuno perché lei era stata addestrata dai cacciatori sul monte Pelio cioè era una fichissima a un certo punto arriva Ippomene che consigliato da Afrodite anziché batterla sulla corsa le butta le tre mele d'oro lei si distrae lui vince lei si innamora ecco io nella vita mi fido delle tre mele d'oro cioè mi fido più di chi si mette lì a correre col cronometro mi fido di tutte quelle occasioni in cui vengono buttate tre mele d'oro e questo di sicuro entra nel lavoro che faccio perché quando tu dici che io prendo un impianto tradizionale di romanzo come nella zona cieca uomo donna che soffre uomo imprendibile però tradisco quell'impianto tradizionale mettendoci dentro Brian è vero io funziono così come persona e quando e quando lavoro ora mi è tutto più chiaro e lettra e poi poi puf fine ho una brutta storia horrible però adesso c'è Rosemary oh oui adesso c'è Rosemary tutta una complicazione lavoro come il cuoco nel ristorante di suo papà adatto alla gestione del mio negozio di mezzo ma poi chi sei tu hai figli no tu sei bella anche tu sei bello vorrebbe sussurrare lei anche tu e le tue spalle mi incantano come a te incantano le mie tette non dire di no ci hai incollato gli occhi peraltro trasparenti ultraterreni da quando ti sei seduto qui vicino a me sulla spiaggia però non verrò a letto con te no non ci verrò perché vuoi farmi intendere che questa Rosemary non è certo la donna della tua vita ma poi stanotte torneresti comunque da lei e dal bambino che verrà mentre io tornerei al mio hotel sola con Max cioè sola e soprattutto non verrò a letto con te perché questo viaggio con avventure nel mondo è la rincorsa per la nuova Valentina una Valentina che per prima cosa la smetterà di dare retta a quelli bravi solo a inseguire una pazza e ludersi che con lei finalmente potranno fermarsi e cambiare quelli così non si fermano quelli così non cambiano e quando incontrano una donna matura che non vomita sull'autostrada ma è pronta a costruire davvero qualcosa una come Rosemary una come me o la sposano e la tradiscono oppure la usano per tradire quella che hanno sposato per quelli così l'amore fa come il mio fidanzato Max non esiste grazie André sorride le sfila il cellulare dalle mani digita qualcosa e glielo restituisce questo è l'indirizzo di Poet in Patriot un pub vicino al ristorante aspetti mai lì e quando ho finito offro te una ban sì no no e no la nuova Valentina lo sa che deve rispondere di no ma sì va bene risponde tanto tanto poi non mi presenterò si dice o se mi presenterò starò sulle mie o se lo bacerò comunque non ci andrò a letto e se ci andrò a letto magari lui sentirà per la prima volta dopo la storiaccia con quell'italiana qualcosa una pallina sotto le costole una piccola onda anomala dentro che lo convincerà a cambiare e a fermarsi con me grazie ma come come le sei andate a scegliere queste letture le abbiamo scelte assieme assieme quindi c'è una responsabilità anche di eletta lateralissimo questo però poveretta lei è proprio veramente ispirata a una persona vera questa è un personaggio di adesso siamo passati al romanzo adesso è un romanzo sull'innamoramento dove ognuno è intrappolato nella sua ruota del criceto e la ruota di questo personaggio è che si fica sempre cioè va sempre con persone che hanno già un'altra relazione e questo è proprio il moto della test questa volta dico di no dico di no e nel frattempo ha già detto sì e qui arriviamo all'ultima domanda che chiude quella difficile ed è quella che potrei definire più affettivamente provocatoria nei tuoi confronti mi interroga molto anche su un piano personale quindi insomma te la faccio come se tu fossi il mio analista Chiara hai qualcuno ha detto e allora già in febbraio lavorando su il grembo paterno ci hai permesso di confrontarci sul conflitto che è prassi quotidiana per chiunque lavori nella clinica tra venire a patti col proprio passato la propria storia individuale pregressa e la chiamata a diventare ciò che non sia ancora che qualcuno ha definito individuazione qualcun altro entelechia e così via ecco nel grembo paterno tu ci mostravi come il movimento verso il passato la fantasia incestuosa diremmo in termini freudiani e così via sia al tempo stesso un pericolo nel rimanere aggrappati al passato e nel riproporre nel presente ciò che già sappiamo di noi stessi e promessa di rinascita non senza però un richiamo seduttivo a restare quindi nel passato c'è una seduzione che si traduce come un resta qui non lasciarmi andare via non andartene via e questo ce lo racconta il mito greco fino ad arrivare al fausto di Goethe il regno delle madri e ovviamente il regno dei padri del grembo paterno i tuoi personaggi se li vediamo in retrospettiva vogliono davvero individuarsi vogliono davvero diventare qualcos'altro oppure vincerà quel meraviglioso e statico richiamo del grembo paterno in cui Adele sogna a un certo punto di galleggiare usi queste espressioni tu io però ti conosco non so leggere bene come lettra lo so chi sei sei e sarai sempre una ragazzina spaventata con le trecce lunghe che non sa guidare che non sa prendersi cura di sé che non sa mangiare come si deve e inciampa dentro le sue paure e per il mondo si sente dire chiara da suo marito in per dieci minuti ricordando quel loro primo incontro al liceo quando furono entrambi segnalati per avere come tu scrivi decisamente bisogno di un supporto psicologico quindi la fascinazione della tua letteratura non credi che possa essere legata anche a questa meravigliosa fantasia di un tempo che non scorre il tempo ciclico dei greci quell'illud tempus in cui tutto è accaduto ma che ritorna sempre difendendoci forse in questo modo dal fantasma della fine della morte assolutamente sì tant'è che i miei riferimenti sono sempre il mio riferimento per niente manifesto perché loro sono manifesto soprattutto in quattro retti d'amore grazie Peter Pan cioè senz'altro i miei personaggi con lo sviluppo con la crescita vivono in questa eterna infanzia vivono entrano in crisi la risposta è sì racconto un mondo che credo sia magnetico proprio per questo perché dice e se fosse possibile rimanere così e appunto ma pensiamo alla favola di Peter Pan no? e devo aggiungerci una cosa perché rivedendo Mary Poppins con mia figlia anche Mary Poppins è un personaggio non avevo mai collegato quanto fosse quanto anche lei avesse a che fare con questo perché alla fine lei se ne va perché ha sistemato la famiglia Banks no? e mentre sta volando l'ombrello dice piangi no? non è vero invece si sta piangendo quindi sia Peter Pan che Mary Poppins finiscono in tragedia nel senso c'è il pianto di Peter Pan di fronte alla culla della bambina di Wendy perché quello bussa alla finestra no? tanto perché per Peter Pan il tempo non esiste quindi dice andiamo a giocare quella dice oh ma sono passati vent'anni giocare cosa? cioè ah dice ma quello è tuo fratello perché si ricordava vent'anni prima il fratello ormai dice no è mia figlia e lui prima estrae dalla fodera la spada poi cade in ginocchio e comincia a piangere e c'è questa frase tremenda senti che grande scrittore lui dice un tempo avrebbe saputo come consolarlo ma era soltanto una donna ora di sicuro i miei personaggi di arrivare a essere soltanto una donna soltanto un uomo fanno fatica perfino quando figliano come nel grembo paterno perfino quando potrebbero fanno fatica c'è qualcosa di l'abbiamo detto prima di spirituale esistenziale intellettuale ma non è una posa è qualcosa di molto profondo come Mary Poppins che pure lei nel momento deve andare via chi è l'unico compagno di Mary Poppins la possibilità l'unica possibilità di legame ce l'ha con lo spazzacamino che mette in conto che lei va e poi torna magari dopo dieci vent'anni boh perché perché se Mary Poppins sapesse restare in una casa non sarebbe magica se Peter Pan sapesse figliare con Wendy non sarebbe magico non sarebbe magico non avrebbe l'indirizzo dell'isola che non c'è quindi sì certo che a me tutto quello che abbiamo detto stasera di cui ti ringrazio ha a che fare con la possibilità di un'isola la possibilità di un gioco la possibilità oggi dicevamo no di una visione anziché di un'opinione perché io da qualche parte dentro di me mi fiderò sempre di più di una visione che di un'opinione anche e soprattutto se saggia e la mia letteratura con con me tu dici e come si fa però poi come fanno queste persone poi a stare al mondo ad accettare la vecchiaia intanto io credo che per i miei personaggi sia più semplice accettare di invecchiare che di crescere così ancora non so di che cosa sto parlando ma c'ho la sensazione che per loro invecchiare sia 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 una sfida di quella di di crescere perché lì se proprio dentro di loro se si è rotto qualcosa e il tentativo però che me li fa volere bene è che nessuno di loro soccombe totalmente a questo destino provano a fare le cose e a dimostrare a loro stessi e a me perché raccontandoli inventando parole per loro provo a capire io con loro se è possibile farlo senza farlo apposta cioè crescere senza farlo apposta io questo non lo so però di sicuro questo questo immobilismo però dinamicissimo c'è nelle loro storie sì certo che c'è crescere senza farlo apposta rimarrà nei nostri cuori per lungo tempo penso concludiamo con una lettura di Elettra e poi abbiamo ancora qualche minuto per delle domande a Chiara Gamberale è che ci sono 7 miliardi di persone al mondo ma fondamentalmente si dividono in due categorie ci sono quelle che amiamo e poi ci sono tutte le altre che sono tantissime le prime invece sono poche le altre le incontriamo in spiaggia a una mostra su un aereo in chat quelle le nostre chi lo sa dove le abbiamo incontrate la prima volta le altre parlano troppo parlano poco hanno un'infanzia da riparare sono spaventate sbagliano tutto non sono pronte anche se nessuno lo è le nostre parlano troppo parlano poco hanno un'infanzia da riparare sono spaventate sbagliano tutto sono pronte anche se nessuno lo è alle altre non perdoniamo niente alle nostre possiamo perdonare tutto la storia delle altre non ci riguarda la storia delle nostre diventa la nostra le altre ci confermano che siamo affascinanti che siamo soli che abbiamo due tette esagerate le nostre ci costringono a cambiare quello che riusciamo a cambiare e a fare pace con quello che non potremo cambiare mai per questo amarsi è un'impresa ma incrociarsi è una condanna è un'allucinazione è un programma televisivo dove il conduttore a ogni puntata cambia casa per dimenticarsi che una casa non ce l'ha tuttavia qualcosa in comune le persone che amiamo e tutte le altre ce l'hanno fanno come gli pare possono andare via quando vogliono in un caso ci lasciano addosso un vago rimpianto se le amiamo invece ci devastano eppure da qualche parte sotto le costole all'altezza della pancia resteranno per sempre quindi al per sempre tanto vale non pensare e pensare invece lui è qui lei è qui adesso mentre arriva un altro autunno un'altra bolletta è di nuovo mercoledì sera è di nuovo Natale grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti